La variante Omicron è arrivata al 36% di incidenza nel territorio dell'Aus Romagna. Il dato fornito dall'azienda sanitaria è aggiornato al 2 gennaio. Il 36% dei nuovi positivi tracciati ha quindi contratto la nuova variante. Il 64% degli altri casi emersi è invece stato infettato dalla variante Delta. La combinazione delle due varianti ha portato a registrare durante l'ultima settimana 19.980 nuove positività su 78.324 tamponi effettuati, 13.000 positività in più in tutto il territorio romagnolo rispetto alla settimana precedente, un'impennata che ha messo in crisi i drive-thru con code anche di 6 ore e il tracciamento con ritardi nelle segnalazioni. Nello stesso periodo, nel 2020, i nuovi positivi erano appena 3.998. Grazie però alla campagna vaccinale, i ricoveri nell'ultima settimana hanno toccato quota 366. Nel 2020, con la campagna vaccinale ancora da iniziare, erano 200 in più, mediamente, nonostante 16.000 positivi in meno. 27 la settimana scorsa i pazienti in terapia intensiva, 40 di media un anno fa. 27 i decessi l'ultima settimana contro il 108 del 2021. Nelle persone vaccinate, la variante Omicron pare ad oggi provocare solamente una sintomatologia lieve, mentre il rischio di contrarre la malattia in forme gravi resta lo stesso per le persone non vaccinate. Purtroppo, negli ultimi sette giorni sono da registrare 5 focolai intraospedalieri, 2 nelle residenze penanziane nel territorio ravennate. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni. Fra la popolazione di età scolare, il coronavirus colpisce maggiormente i giovani tra i 14 e i 18 anni, con 648 casi diagnosticati in provincia. Dopo Rimini, con 7.237 casi complessivi, Ravenna è il territorio che maggiormente sta soffrendo la nuova ondata del virus, con 6.129 positivi.